Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò dell'interdizione anticipata di maternità. L'interdizione anticipata per maternità può essere disposta dall'ASLO o dagli uffici territoriali dell'Ispettorato Nazionale Lavoro al ricorrere di particolari condizioni riguardanti l'ambiente di lavoro, le caratteristiche dell'attività svolta o le condizioni di salute della gestante. In caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che possono essere aggravate dallo stato di gravidanza, l'interdizione anticipata è disposta dall'ASLO su richiesta della lavoratrice. In caso di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli ovvero quando la lavoratrice svolge un'attività pericolosa o insalubre, l'interdizione anticipata è disposta all'Ispettorato del lavoro su richiesta della lavoratrice, dell'azienda o dufico dall'Ispettorato direttamente in sede ispettiva. Se ti è piaciuto il video e lo hai trovato interessante, clicca mi piace e iscriviti al canale. Grazie per l'attenzione! Grazie per l'attenzione!